musica ok quindi ora eseguiamo semplicemente keycad e andiamo ad importare le librerie le librerie sono in due tipi i simboli e le impronte allora andiamo su preferenze iniziamo con i simboli gestione di libreria simboli noi qua vediamo tutti i simboli presenti che sono quelli forniti di standard con keycad clicchiamo sul simbolino di cartella folder quindi apri il libreria esistente dgk keycad library vedete che all'interno troverete dgk symbols andando su simboli voi trovate tutti i simboli presenti divisi per libreria li selezioniamo tutti possiamo fare un control a volendo e clicchiamo su apri lui le carica tutte all'interno vedete che sono tutte caricate e hanno dk dgk come valore e diamo ok la cosa da fare dopo andare su preferenze gestione libreria di impronte allora andiamo sempre nella cartella qua sotto dgk footprint pretty questa sarebbe la libreria per le footprint lui la inserisce in questo punto e noi diciamo ok quindi fatto questo possiamo diciamo abbiamo installato le le parti fondamentali del keycard con l'aggiunta di un numero nutrito di libreria esterna possiamo quindi iniziare a sviluppare il nostro progetto